Ciao a tutti ragazzi, qui è G.S.N.E.K.I.N.A. E siamo in compagnia di Ninja Aspetta il muto un attimo Ok, comunque faccio la presentazione Siamo in compagnia di Ninja e siamo qui un'altra volta in ranked Perché siamo sia io che lui in promotion Io sono in promo per il Platino 3 È la prima partita che faccio Come vi avevo detto anche che mi avevate suggerito anche voi nei commenti Di portare altre ranked, porterò soltanto le promo Più di qualche suggerimento mi era arrivato che devo portare soltanto le promo E così farò Porterò le promo E basta Poi semmai dovessi arrivare altissimo porterò magari più game oltre anche le promo Però finché non arrivo a diamante alto, semmai ci arriverò Porterò solo le promo Dicevo, comunque Ninja anche è in promo E sta una vinta e una persa E lui è in promo per il Platino 1 però Quindi Nel caso dovessimo vincere Ninja in Platino 1 E io con una vinta in Platino 4 Bene Boh, se nessuno mi copera il cazzo de coso Cioè riesci a buttare una ward al coso? A red? Eh già Ma spero qua, non c'è un Sion Sion Cosa vuoi fanno? Era passato qua che me voleva via il mio Voleva romper il cazzo Voleva in BODETS Però non è più venuto Voleva in BODETS Voleva in BODETS Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Beh? Sion Voleva in BODETS Cosa vuoi? No Comunque ultimamente per chi lo volesse sapere Sto usando praticamente sempre 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 appena mi è possibile Jarvan e V Perché sono proprio rotti come champion in questo momento Sì, te capitano pure i game negativi Però, boh, sono devastanti Invece mid top è devastante Lissandra Infatti Ninja, guardate un po' chi ha piccato Anche perché poi, soprattutto la combo Jarvan, Lissandra, Jarvan ult Cioè, Lissandra ult, Jarvan fa tutto il resto Combo, ulti, tutto Uccide tutto Attacchiamo il telefono Ho perso un sacco di vita Te la ganko subito, mid, va bene? Cioè, stai se te la ganko Oh, Ninja, ci stai o no? Ci stai o no? Ah, ok Che bello Grande Grande Accompagnami, ninja Lo lasci? Sì Fast però Oh, cazzo Lo devo prendere io Non c'ho nemmeno lo smite Eh, non c'ho lo smite No, no Eh, muoio Non so come aiutarti Invece no Oh, no Oh, che Merda Eh, vabbè, ma Udyr pure Ma Udyr? Eh, non ha chiamato Eh, sì, ho capito Ma Udyr stava a dormire Cioè, perché non ha seguito? Vabbè Ehm, ma che cosa sta la che si è fatto ammazzare? Eh, vabbè, guardalo Ma che cosa sta facendo? Ma che cosa sta facendo? Sta trollando Si sta trollando Però quindi siccome c'è uno Ah, non si è scappato Ma sei bravo Non capisco Noi siamo sti imbecilli perché io non c'ho lo smite Ok Però lui, porco, due bastava seguirlo o qualcosa Vabbè, non fa niente In mid non c'è il flash come Ok Perchè è rimasto? Poteva andare back quello Ok Ok Cioè, qui dovrebbe avere una T a loro Sì Ma perchè ancora sta là? Niente Oh my god Sono molto male Dio mio sia Che t'ha fatto? Eh, mi ha semplicemente camminato addosso Da lì Buono No, facevo pure il 6 Palle Cioè, il TP? No, ho il Lignite È un buon giusto Per morire Quanto da mangiare? Appena faccio il 6 Eh, mezzo livello No, un livello intero Cacchio, pensavo di aver fatto metà livello Arrivo Eh, mezzo livello mi manca Credo Questa o la prossima wave No, top Mannaccia, quel porto Non è cancro che è sì Oh mio dio Eh, ho capito che ce faccio Dovremmo fare il Drake, no? Non c'avevamo la botta Snake Arrivo Non è il 6, però Madonna, l'ho missata È morto Oh Eh, sono il Rill, bro Andiamo a botte No, Mannaccia, vieni di qua Vieni di qua, vieni di qua C'è la ultima, no? Io non ho ancora La puttiamo via, la puttiamo via Sì, sì, la prendiamo La prendiamo male E la ulti tu, sì? Sì, sì Ah, stupido sia Quanto cazzo dura quel ciccino in merda Ah, scepo Cazzo, cazzo, scappa, scappa, scappa Scappissima Eh, non so se lo possiamo fa No, no, no No, teoricamente è botulista Se venite Io sono senza vita Ah, ok Stai attento Eh Sei morto Oh, madonna Nooo Vabbè, se sei salvo Ne va bene lo stesso E quello ha buttato anche un ignite flash Esatto Quindi sai cosa fare adesso Tant'è che se vuoi Aspetta, fammi fare Il Tiamat E le scar- No, non posso fare delle scarpette Vabbè C'ho il blu per te Lo vuoi vero Lo vuoi tu Lo vuoi tutto il blu Certo che vuoi tutto il blu Mamma mia Dovremmo mandare pure il botte di nuovo Eh, facciamo il blu e andiamo a botte E inizialo però Imo bro Oh, cazzo Sono spostati La facciata è a wardato Ah, Tok non ha il flash Buono Vole mandare insieme? Non capisco perché ha piccato Woody però Nemmeno io lo capisco Non mi muorgo in questo punto Pipiripipi Io vado botte Tu fatti red Se mi vado da dietro Vado dalla linea Ma è red mio Quando cazzo l'ho fatto? Ah no Me l'hanno stirato a stonco Eh, 3 minuti e 40 Quindi ce l'ha fatto Ma sarei preso Udyr Ah, l'ho preso Udyr Quel pezzo di merda A me serve quel cazzo di buff Faccio Giorgio No Ci mori? Ovvio e no Manca Cassio Andate via andate via andate via Subito subito Stare in un cespuglio ad attendermi snake Sono qui Vorrebbe stare qui Allora eccola sta andando bot Mi vado a ficcare il cespuglio io Aspetta Vediamo se c'è la pink P3 buono E hai ulti? Non ho ulti io Ho ultato bot per salve Per prendere Callista Io ce l'ho invece Devo iniziare a prendere pure le pink per il cespuglio in mid Eh già Ascia verde Per un draco Mi sa che ha facciato il drago alla cosa Faccio cosa Faccio il grump Tu vuoi venire il botto di nuovo? Così Madonna quanto siamo cancri quando facciamo così Ho la ultima di nuovo perché non dovrei sfruttarlo Allora vedo se è wardato È wardato Musco la ward Se ne sto andando Sì sta scendendo Siamo tutti i bot Vengo da dietro Eh non so onestamente se è wardato Sì c'è 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 cosa Pulite pulite la wave Pulite la wave Ottimo Andiamo andiamo Ti prendo molto la botta Che f*** Potremmo farci pure quella Se rimane No potrei lasciarla a Jinx Eh sì scusa Sto pensare a distruggere Non a kill Lascio le kill Oh my god Snake Andato andato Oh no no mi faccia Non devo stare di faccia Non posso andare contro Kalista io Mannaccio col porco Mannaccio col porco Siamo morti Eh senza mana Lasciapelo Non gli risponde Non gli risponde mai Non eri senza mana Quello era la Lo so lo so Però non devi mai rispondere Dopo Fa finta di niente Il drago c'è tra dieci secondi Oh sì Io mi avvio Oddio quella ulti Oddio 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 Vabbè Che purezza Mi accusa S'ha preso top Do you need? C'era ulti? Arrivo Vorrei farmi il red Onestamente No Allora farai il red Allora Vuoi venire su Cho'Gath? Sì E' full AP No se ne va bene Se ne è andato back Allora andiamo su cosa? Non ho il Trinket Rosso Non so se è morta Ciò è così Ah sono i mid Ciò ga i mid Più 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 E più 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 E' libera la mid No Ok niente Più 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 Non c'è un'ordia, due kill Madonna, non c'ho visto quella faccia K GG Ha usato anche l'exhaust Davvero? No, l'exhaust Eh, ma non possiamo fare niente mo Chogat è piccolo C'è piccolo nel senso che non c'è difesa C'è un mini focus nostro e crepa all'istante Dobbiamo fare peeling per Jynx Higher silence, higher silence Porca miseria il senso di Chogat Mi devo fare il mio joy E poi c'è mi devo fare l'anel Quote di lato Vabbè Mi faccio una stunnata Damn silence Sì vabbè ma guarda Udyr Un'impresa, cioè Il silence mi ha fregato là Non sta facendo nulla però Uffa Ehm Ehm Muore Proteggere i fedeli Ah è un udyr, ricordatelo Dobbiamo prendere la mid In qualche modo dobbiamo prendere la mid Devo prendere la zonia io Insebra la zonia Oh madonna Ah già sei stuck Non faccio le Mercury Non posso rischiare il silence Dio Un'altra volta Non ho potuto neanche flashare io 20-40 al drago Prendono... Continuano a prendere la mid Il fatto è che Il fatto è che Azzechi una combo tu ed io Azzechiamo la combo io e te E facciamo La partita Eh vabbè ha messo un'altra pink Come cazzo fa Cassiopea sta al 11? Eccola Eccola Io non so come cazzo fa Cassiopea sta al 11 Ma perchè forse ho avuto overfighting No No Eh guardate Te salvi? No Mannaccio quel porco Mezz'ora di stunno Mezz'ora di stunno Ridicolo Mezz'ora di stunno Di stunnaggio proprio Eppure 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 In killing spri Cassiopea Eppure 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 Dove nemmeno che c'è un viaggio Dove nemmeno andare Snake Niente Titans Ho provato a prenderlo, non ce l'ho fatto E guarda un po' Jinx, dove è? Non c'è un po' E' utile che non ho capito, oh 2.5 secondi, silence, non fun La tua torre è stata distrutta Ma come Udile che vuoi fare? Udile è piccolo, è piccolissimo Si ho capito, però noi non possiamo, noi perdiamo solo i pipe Siamo a perdere fight, drago, tutto Vantaggio, tutto Abbiamo fatto diventare immenso tutti Schivatelo in qualche modo E' macchi Stoplo 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 Non capisco Udyr io Io pure non capisco Udyr onestamente Mi lascia Ma il fatto è che ha ragione Questa cosa Non fa un cazzo comunque lui Sì ma non capisco perché ha piccato Udyr Allora a noi ci serve una mano Trova il modo di essere utile C'è Non la riesce a prendere Perché poi uno va back lo ferma e non può nemmeno Faitare uno contro uno Se non puoi fatere nemmeno uno contro uno Mi dici qual è la forza di Udyr Due colpi è scappata via C'è non capisco come fa A far workare Udyr così E appunto C'è la cosa migliore era Non prendere Udyr e lui l'ha preso C'è un cazzo di torre Porca puttana C'è per colpa C'è per colpa solo Non possiamo faitare bene Non posso No non è che non possiamo faitare bene Non possiamo fa niente Questa mi vuole faitare Ah non ce l'ho fatta C'è non possiamo fa niente Perché loro vanno tutti a cover the carry Giustamente Ce la fanno E noi non ci abbiamo niente Adesso in cross Cioè si è fatto la large road Con quella cazzo di large road Ha tolto 800 Jinx Come cazzo ha fatto Non me lo chiede Fatto sta che noi non possiamo Fare nulla In questo momento Ovvio perché ho chiesto di star di storm Guarda che stanno al baron Ah no Sto No Nevermind No non so Sto dicendo che stanno al baron L'ha workato E una Prendeva la qua Ecco Pure voi però perché state così avanzati Non capisco Non capisco proprio Instant Instant exhaust stun Instant exhaust stun Non dovevate stalla Non dovevate stalla Era morta cosa Ma era morta cosa Se erano in 5 In 4 Quanti erano Erano in 3 Io non lo posso prendere quello Hai due livelli sopra di me Eh già una pronta Pronta la Q Eh vabbè Lo faccio bello Lo faccio bello Lo faccio bello E se ne è pregato Lo smite Cioè Guarda Udyr Guardalo Due livelli pure sopra Cassio B Cazzo devo fare Sto arrivando Muoviti Muoviti Aaaaaah Bisogna andare piano L'altro pezzo del frozen Cazzo Cazzo è proprio Eh ma non posso Pusciare Ormai Il suo Il suo È un rabato Il suo Chogat Se ingaggiamo Chogat Ci ammazzano gli altri Perché ci C'è ingaggiano E hanno fatto il drago Quest'anno a fare il drago L'hanno fatto Il suo Il suo mezz'ora di silence qualcuno uscita qui sta oh oh ahhhh cazzo 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 oh vaffanculo stupida cassiopea con quello slow di merda usciate la mia imba bravo vuol dire così ti fai kytare ancora meglio oh ma ci riesci l'ha crittato una volta ah ciò che lì in mezzo si è salvato ah certo mica ci può morire ah l'ha rimasto col 2 hp dove va dove va perchè stanno risponendo tutti boh io non lo so io non lo so no perchè non ho parole cioè boh in promo in promo eh ma io ti devo disnake mo me la devo dovrò succhiare dovrò rifarne l'android nooo non capisco ma cos'è prendo 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 di ulti cassiopea e ci sta calista urto calista e c'è cassiopea che devo fa' ma perchè sta andando ancora a d questo boh si si non si è tancato la torre top niente ovvio e si via una one shotata dove va fa' pappa culo una doppia v no zonia zonia that's jarvan 4 oh oh my god ahahah 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 ah beh l'hanno vinta l'hanno vinta l'hanno vinta a giocat sta cosa che mi devo dire è morto vuol dire mi ha fatto un cazzo tutta la partita gg e niente ragazzi cioè si perdono si perdono anche le partite così come vedete comunque ragazzi sperando che il video anche se di scarso contenuto per colpa di questo utile è uscito così e niente al prossimo video ciao ciao